La coscienza originaria manifesta e sostiene tutte le forme di vita. La natura della coscienza primaria, trasmessa dal cuore benevolo della creazione come potenza tantrica maschile e femminile della creazione, ci rende energeticamente manifesti come elettricità e magnetismo. Questo codice di creazione viene scaricato nel computer biologico umano tramite il sistema di trasferimento dei circuiti. A causa della modificazione genetica del DNA umano e le manipolazioni psicosociali, chimiche e religiose della coscienza, i circuiti principali all'interno di questo sistema sono stati disconnessi. La disconnessione dei biocircuiti umani ci ha portati ad un insufficiente rifornimento dell'energia elettromagnetica che sostiene la vita, causando, come conseguenza, la limitazione della capacità umana di attivare ed esprimere l'intero spettro del proprio progetto originale, divino ed immortale. La privazione di questo sistema di energia di forza vitale fra i più elementari ha ridotto l'umanità ad una razza mortale propensa al conflitto, che manifesta collettivamente un paradigma basato sulla paura. La riconnessione dei biocircuiti umani restaurerà in modo completo un armonico risonante e senziente per essere trasmesso entro il campo unificato della coscienza collettiva. Una volta raggiunta una massa critica, la trasformazione del campo morfogenetico sarà realizzata. L'intero spettro delle frequenze della creazione, trasmesso attraverso una moltitudine di unità di circuiti umani riattivati, sovvertirà le referenze di corruzione archetipica e faciliterà la ridefinizione di Dio nella psiche umana. Dal momento che la forma segue la frequenza, la forma d'onda collettiva di una razza umana ricalibrata a nuovo ci libererà dai confini di questa prigione mortale e genererà un modello di esistenza in grado di riflettere lo spettro completo del progetto divino insito nella matrice umana. La riconnessione dei biocircuiti, alla fine, ricalibrerà le frequenze dell'individuo e della collettività umana a quelle dell'ordine cosmogenico del suo sistema solare e dalla sua autentica identità divina come una razza immortale in grado di accedere ogni tempo ed ogni livello di energia nell'universo. L'obiettivo principale del modello The Template è la riconnessione dei biocircuiti umani.